Ciao a tutti ragazzi Benvenuti ad un nuovissimo video Oggi in questo nuovo video da Amazon Mi è arrivato un pacco Ma stavolta non ho ordinato un bel niente C'è qualcosa che mi hanno inviato Ok, prendiamo ora Che so che ne passiamo All'unboxing Mi è arrivato da Amazon Un bigliettino Per il mio grande amico cinefilo Un altro titolo della sua bellissima collezione di film Un bacio grande Claudia Ringrazio tanto Claudia Musica Per avermelo regalato E il portegliere è stato pure il suo compleanno Io faccio tanti auguri per i suoi 26 anni portati alla grande Allora Ti dico subito Che Laudio è quello d'epoca Rimasterizzato in HT Le lingue sono italiane Inglese, francese Spagnolo e tedesco Sottotitolo in italiano A destra c'è il trailer Galleria fotografica Locandina più poster Messico Stribling Sceriffo di una contà del Texas E sulle tracce del bandito Oma lei Entrambi capitano nella fattoria Di Brekingan La cui moglie Mary Era stata fidanzata Dallo stesso Oma lei La donna ha una figlia di 16 anni Melissa I due uomini Accettano l'offerta dell'ospite Di aiutarlo a portare Una bandiera di Brestriame Dal Messico al Texas E E Questo film ci stanno Ben tre pezzi da 90 Tra cui Rock Hudson Keir Douglas E Joseph Cotton Doppiare un'utile e tre Dalle loro voci ufficiali Cioè Rock Hudson Da Giuseppe Rinaldi Keir Douglas Da Giulio Panicali E Joseph Cotton Da Emilio Scigoli E niente Ci vediamo alla prossima